Uomini e donne. La non scelta di Luca, porta Giulia sul trono. L'avventura di Luca Onestini nel trono classico di uomini e donne potrebbe finire in maniera inaspettata per quanto riguarda la sua scelta finale. Tra le possibili scelte ci sono Giulia Latini e Soleil Sorge che devono fare attenzione anche alle nuove corteggiatrici, tra cui Cecilia Zagarrigo. Tuttavia, qualora Giulia non venisse scelta da Luca, questa potrebbe avere già un posto sulla poltrona rossa. Prima parte. Giulia Latini prossima tronista. Il trono di Luca Onestini sta vivendo una fase di stallo in quanto il tronista non si è sbilanciato con nessuna ragazza. Stando alle voci del web, il ragazzo potrebbe addirittura lasciare il programma senza fare la sua scelta, lasciando Giulia Latini e Soleil Sorge letteralmente con la mare in bocca. Secondo alcuni rumors, però, Giulia Latini potrebbe avere un'altra possibilità nel programma se non dovesse essere la scelta di Luca. Non a caso, la giovane ragazza sembrerebbe l'indiziata numero uno per il ruolo di tronista della prossima stagione di Uomini e Donne, in quanto nutre grande simpatie dal pubblico e non solo. Seconda parte. Maria De Filippi vuole Giulia Latini sul trono. L'esperienza di Giulia Latini all'interno degli studi di Uomini e Donne le hanno permesso di guadagnarsi numerosi sostenitori tra il pubblico. Tra questi, anche Maria De Filippi avrebbe confessato la sua simpatia nei confronti della giovane ragazza. Non è nuovo, infatti, che la reginetta di Canale 5 prenda cuore tronisti o corteggiatori del suo programma, basti pensare a tutti quei personaggi che da Uomini e Donne sono passati a Temptation Island. Dunque anche Giulia Latini sembrerebbe aver conquistato la fiducia della De Filippi che sarebbe pronta ad offrirgli la possibilità di salire sul trono classico, già a partire dalla prossima edizione. Per scoprire come finirà il percorso di Luca Onestini, e quindi se Giulia Latini sarà davvero la scelta del tronista, non perdete le prossime anticipazioni provenienti dalle registrazioni di Uomini e Donne.